Per te. Assalto alla gioielleria del Valle Center, le parole del papà della giovane commessa di Mogliano presa per prima in ostaggio dai banditi armati. Giorgia sta meglio, dice, ma deve superare questa esperienza. In un video è il momento in cui la collega di Giorgia si offre coraggiosamente come ostaggio al posto suo, lasciando che i banditi liberino la ragazza sconvolta. Caccia alla banda, gli investigatori battono tre piste, Giustrai, Banda dell'Est, Comando del Sud Italia, Telecamere a Setaccio, il racconto di una testimone, ero a pochi passi da Giorgia guardato negli occhi il bandito. L'ite di condominio apponzano due coniugi, minacciati dal vicino con una pistola, apre Gansion, un altro caso, il diripetaio impaurisce una donna con un coltello. Torna il caos al parcheggio a piani, dove alcuni richiedenti asilo in attesa di essere convocati si sono spostati e dormono davanti. Alla questura molti di loro hanno la febbre, uno il catetere, è un'emergenza mai risolta. Ventenni imbrattano con lo spray la pensilina del bus, in viale 4 novembre a Treviso, all'arrivo dei poliziotti si giustificano, stiamo facendo arte, sono stati denunciati. Smog, nelle giornate di allerta rossa arrivano i dati del report annuale di Lega Ambiente che vedono Treviso al terzo posto tra le città più inquinate d'Italia. Polemica sullo spostamento a Doderso di uno dei due medici di base, dice Salto, alle parole durissime del sindaco Crosato, risponde il direttore generale dell'US2. Giovedì grasso non si rinuncia alle frittelle come vuole la tradizione, rincari di un euro al chilo per gestire gli aumenti delle materie prime, dal burro allo zucchero fino alle uova. L'assalto armato al Vale Center di ieri sera, partiamo da questo fatto che ha sconvolto evidentemente la nostra regione, buonasera e ben ritrovati. Giorgia è ancora sotto shock, ma sta bene. Giorgia è la commessa che è stata presa per prima in ostaggio dai banditi a parlare, è il suo papà. Lo ascoltiamo. Papà Lucio dice solo poche parole raggiunto al telefono quando gli si chiede come stia Giorgia, la giovane commessa della gioielleria del Vale Center di Marcon, prese in ostaggio dai banditi armati che hanno assaltato il centro commerciale. C'è un filmato di quei lunghissimi istanti di terrore, una manciata di secondi in cui si vede la ragazza originaria di Mogliano Veneto, immobile, in piedi di fronte all'ingresso del negozio, tenuta ferma alle spalle da un rapinatore col volto coperto che imbraccia un fucile. Nel video lo scambio di ostaggio, i malviventi vogliono raggiungere l'uscita facendosi scudo con una di loro, la collega Federica si fa avanti, si offre al posto della giovane di Mogliano, i banditi con i sacchi di gioielli scappano in gruppo. Giorgia si porta le mani al petto, rientra nella gioielleria, di lì a poco anche la collega sarà lasciata libera dai banditi che guadagnata l'uscita si danno alla fuga. La ragazza esce dal centro commerciale solo a tarda sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori e ora sta cercando di lasciarsi alle spalle questo incubo. Sta meglio, c'è ora il suo tempo per metterla, perché passi questa tutta esperienza. Lucio Endrizi è conosciuto a Mogliano per la sua attività di tassista, il desiderio della famiglia ora è quello che Giorgia superi il trauma e torni quella di sempre. Indagini a 360 gradi con posti di blocco in tutta la regione ma anche in alcune regioni confinanti. Tra le piste che stanno seguendo gli investigatori è anche quella dei giustrai mentre una testimone racconta di aver visto il bandito degli occhi. Mi sono abbassata giù alla terra subito e quando mi sono alzata l'altra volta l'ho visto già un po' più vicino e sono uscita qui pieno alla terra. Mi sono uscita fuori per nascondermi in un negozio, in un altro negozio. Per una frazione di secondo Irina che lavora nel banco di dolci accanto alla gioielleria del Valle Center di Marcon presa d'assalto dai banditi ha visto negli occhi l'uomo che ha tenuto in ostaggio Giorgia e poi Federica ma nonostante fosse pietrificata è riuscita a fuggire. Non è facile tornare alla normalità dopo un simile shock mentre caccia i banditi con posti di blocco in tutta la regione estesi anche ad alcune confinanti come il Friuli Venezia Giulia. Varie le ipotesi dei carabinieri. La prima quella di una banda arrivata dal sud con il modus operandi che ricorda quello di rapine commesse in Puglia o in Campania. Potrebbe però anche trattarsi di un commando proveniente dall'ex Jugoslavia dove queste bande sono molto precise nell'organizzazione dei colpi e dallo stile militare. Infine un gruppo di giostrai che spesso utilizzano armi lunghe proprio come quelle della rapina in gioielleria. Ormai avremmo immaginato in un centro commerciale alle 7 di sera senza spudoratezza. Avevano secondo me fatto il sopralluogo già qualche ora prima nei giorni precedenti sicuramente perché era molto comodo svaliggiare questa ala del centro in quanto c'è una porta proprio di sicurezza attaccata al negozio quindi era molto facile entrare e uscire da qua. Non sarebbe stato possibile individuarli e fermarli al momento. Fondamentale sarà infatti l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne al centro commerciale. Nel frattempo le due commesse sono state nuovamente interrogate. Ho avuto modo di parlare con Giorgia in primis e ho visto ovviamente una ragazza provata da quello che è stato un avvenimento assolutamente straordinario e ho parlato con le restanti dipendenti. C'era anche da parte loro una situazione particolare di agitazione. È da dire che però ho fatto i complimenti per il sangue freddo che hanno dimostrato, la tranquillità dimostrata ma ce lo diciamo anche, lo diciamo forte, davanti a una banda organizzata, armata fino ai denti come quella che ha visto rapinare ieri sera questa gioielleria difficilmente anche le forze dell'ordine avrebbero potuto contrastare un avvenimento di questo tipo. Un elemento che potrebbe poi essere molto utile per gli investigatori riguarda il bandito che ha preso in ostaggio Giorgia usandola come scudo. Impugnava il Kalashnikov con la mano sinistra, quindi potrebbe essere mancino, dettaglio da tenere in considerazione una volta che ci sarà una lista di sospettati. Si sta continuando sulla via della verifica delle targhe e delle autovetture che sono state utilizzate per la rapina. Gli sviluppi li vedremo nei prossimi giorni. Riavolgiamo il nastro ora e riviviamo insieme gli attimi di ieri sera, terribili momenti vissuti ieri con le interviste di Christian Arboit e le immagini di Simone Merlo. Praticamente erano in cinque. Uno ha portato fuori Giorgia e ha detto alle altre di aprire e l'altra di aprire tutto Federica. Lei intanto ha aperto tutte le tecche che riusciva, dovevano affrontare i sacchi, poi sono usciti, dovevano portare via Giorgia praticamente in ostaggio, però lei stava piangendo, la distrutta e l'altra ha detto guarda prendete me, l'ha portata fuori, seduta lì accanto mentre rimpivano la macchina e poi sono scappati via in macchina. Nel messaggio audio del fidanzato di Giorgia Intrizi c'è tutto il terrore vissuto dalla ragazza e dalle sue colleghe e anche l'atto di coraggio di Federica che ha trovato la forza di dire ai banditi, prendete me, al posto suo. Giorgia esce poco dopo le 22 dal Vale Center, scortata dagli investigatori, ancora addosso l'incubo che l'ha vista ostaggio dentro il centro commerciale, mentre uno dei banditi si faceva scudo con lei. L'immagine è diventata simbolo di una serata di paura per un assalto armato che non si vedeva dai tempi della mala del Brenta e che scatena il panico. Poche ore prima, l'assalto. Il comando quasi militare con sette uomini, due in auto, una golf bianca e una panda rossa, cinque in azione con fucili mitragliatori e kalashnikov. L'obiettivo è il negozio Gioielli di Valenza, sono quasi le 19. Io stavo lavorando, ho visto gente che correva e urlava. Inizialmente io e il mio capo non sapevamo di cosa stessero facendo perché vediamo gente urlare e non sappiamo perché e poi è entrata una famiglia con la moglie che stava piangendo perché ha visto la scena. Io stavo lavorando, ero in negozio e ho sentito, ho visto delle persone correre e a una certa ci hanno detto che c'era una rapina a mano armata, ci hanno fatto uscire tutti. Abbiamo visto che gente corrono, siamo chiusi dentro con la porta, siamo rimasti di là finché è arrivata la sicurezza, ha detto andati fuori o rimaniti dentro. I miei colleghi mi hanno detto che c'era stata una rapina, dovevamo mandare via i clienti e noi ci hanno fatto mettere da un'altra parte, abbiamo chiuso il supermercato. E' stato il panico in quel momento? Decisamente sì, però siamo tutti bene, dai. Posso chiederle cosa ha pensato in quel momento? Niente, intanzitutto a salvare le clienti che avevamo dentro e a metterci in salvo noi e poi ad aspettare che passasse. Sembra un'eternità, ma il colpo dura appena due minuti. Professionisti che hanno studiato il colpo nei minimi dettagli e scelto un luogo dalle mille vie di fuga. Quei colpi sentiti dai testimoni non sono fortunatamente spari, ma il rumore delle vetrine dei gioielli infrante per arraffare il bottino che si aggira intorno ai 200.000 euro. Giorgia con il bandito la usa come scudo per tenere lontani i vigilantes del centro. I rapinatori la vogliono portare fuori con loro, ma lei piange disperata, non ce la faccio, vi prego. È allora che Federica si propone come scambio ed è lei che i criminali trascinano fuori e la fanno stare seduta accanto all'auto mentre caricano il bottino prima di fuggire, lasciandola lì. Mentre scappano l'arrivo dei carabinieri e della polizia, le notizie sono ancora frammentarie, si teme ci siano ancora i banditi dentro, il Valle Center viene evacuato e diventa quasi il set di un thriller. La Panda Rossa verrà ritrovata a poco distante vicino al negozio Mondo Convenienza, la Golf Bianca No, probabile che sia stata abbandonata anch'essa usando poi una terza vettura. La caccia ai criminali è appena iniziata, l'unica nota positiva è che non ci sono feriti, momenti che Marcon difficilmente potrà dimenticare in fretta. Sconcetto e preoccupazione oggi ovviamente tra i clienti del centro commerciale c'è chi si chiede come si sarebbe comportato se si fosse trovato in mezzo a quella rapina. Da un certo che adesso entrare, dopo quello che abbiamo visto ieri sera, ti fa un po' di paura. Io ho lavorato per 22 anni qui dentro, adesso non ci sono, però solo il pensiero che comunque anch'io lavoravo e mi trovassi da sola, ero di sopra, sarei rimasto un po'... Lo stupore, misto in alcuni ad un po' di paura, in altri ad una certa dose di fatalismo, sono i sentimenti prevalenti tra chi stamattina entra a fare acquisti al Valle Center. Appena, poche ore dopo, la rapina di un commando di uomini incappucciati è armato anche di Kalashnikov. Inevitabile per molti porsi la domanda come mi sarei comportato se ci fossi stato io. Mi hai detto che viene anche con suo figlio, che è piccolo. Ah sì, vengo sempre a fare la spesa anche, quindi se mi trovavo là ieri penso che, non so, mi sarebbe venuto un colpo soprattutto per lui, perché sì, un po' per tutti, cioè non è una cosa appunto a tutti i giorni qua, ormai stiamo veramente andando via proprio di testa, non so. Che ho mio figlio che lavora qui. Ah, dove lavora? Lavora come era presente ieri? No, lei ha dovuto chiudere tutto quanto le serrante, appena ha saputo di quello che stava succedendo. È mai possibile che cinque personaggi entrino con un mitra e nessuno, non fa nulla? Le telecamere cosa servono? Il genitore è più preoccupato da... Molto preoccupata, perché ieri sera, fin quando la cosa non si è risolta, io ero preoccupatissimo. Non è che ho dormito molto questa notte, avevo abbastanza di svegli, quindi sì, non ho dormito molto, però d'altronde bisogna anche superarle certe cose, purtroppo, nel senso, sicuramente ti resta per un bel po' il trauma, però poi non è che ci siano tante alternative. Non ci sono alternative. L'immagine degli uomini incappucciati e armati ha scioccato tutti, ma nonostante questo bisogna anche sforzarsi a rimanere sereni. Con che spirito si torna oggi qui a fare la spesa? Beh, con lo stesso spirito di prima, non è cambiato niente. Una cosa del genere però non era mai capitata. No, qui no, che io sappia no, no. E non è preoccupata comunque? No, 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 abito anche qua vicino, non è che in zona. E' più preoccupato adesso? Eh, un po', sì, un po', però non tanto, ecco, però comunque è sempre sorvegliato, non so come mai, non capisco proprio. Ma c'è sempre stato un po' di queste cose qua, comunque faceva gola, si vede che qualcuno ci ha pensato. Ci raccontano che in genere qui non c'è tanta gente durante le mattine delle giornate feriali, curiosamente oggi ce n'è di più. Infatti ho sentito dalla gente che hanno detto questa cosa e, ma, magari la gente è anche curiosa. Di rapide, continuiamo a parlare, una notizia dell'ultima ora che ci porta a Trevignano. Siamo in Piazza Dante, una persona incappucciata e armata di taglierino si è introdotta all'interno del negozio di alimentari che vedete in questa fotografia e ha minacciato la commessa cinquantenne di consegnarle l'incasso. Si tratta di un bottino di circa 100 euro. Ovviamente l'ha preso, l'ha portato via e sul caso stanno indagando i carabinieri. Il fatto è accaduto, lo ricordo, Piazza Dante e Trevignano intorno alle 17.30. Un'altra notizia. Lo schianto mortale di Oderzo, in cui è rimasta vittima Chiara Bortoletto, la 25enne di Crocetta morta dall'incidente al Colfra, al cui non avrebbe potuto guidare. Le era stata sospesa la patente qualche mese fa. Il dettaglio è emerso nelle ultime ore, proprio alla vigilia del funerale che si terrà domani alle ore 15 a Crocetta. Invece è stata aperta un'inchiesta sull'infortunio mortale sul lavoro avvenuto a Riese Pio X e che ha provocato la morte di un 72enne di Borgoricco. Vediamo. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per la morte di Adriano Gallo al 72enne di Borgoricco, morto schiacciato dal muletto, scivolato dal cassone del suo camion dopo aver scaricato del terriccio in un'azienda florovivaistica di Riese Pio X. È attesa per queste ore la relazione dei tecnici dello Spisal che sono intervenuti per i rilievi nei minuti successivi al dramma. Al momento non ci sono indagati, ma l'indagine vuole fare chiarezza sulla dinamica e capire cosa abbia provocato la caduta fatale del muletto che ha travolto e schiacciato Adriano Gallo senza lasciargli scampo. L'uomo insieme al figlio era titolare di una ditta specializzata nella commercializzazione di fertilizzanti e concimi a Borgoricco. In paese, così come nel vicino comune di Massanzago, era molto conosciuto un gran lavoratore molto attaccato alla famiglia, come lo descrive Stefano Scatolin, sindaco di Massanzago, che lo conosceva bene, dato che la moglie di Gallo aveva insegnato nella scuola primaria del paese. Una persona sempre disponibile, ecco, disponibile anche per far piaceri, per aiutare in tutti i modi, molto semplice. E anche aveva in mente alcune proposte di macchine agricole per lavorazioni particolari, era intraprendente nel suo lavoro. La famiglia è chiusa nel dolore e al momento non è ancora stata stabilita la data dei funerali. Leti di condominio, ci sono due episodi, due coniugi sono stati minacciati da un vicino con una pistola e in un altro caso minacce con il coltello. Alta tensione in condominio. In due differenti episodi è servito l'intervento delle forze dell'ordine per gestire i momenti di tensione tra condomini. Il primo a Preganziol, dove una quarantenne è stata minacciata di morte con un coltello da un 31enne di origine albanesi, temporaneamente ospite dai vicini. Si era lamentata del troppo rumore da cui la lite. L'uomo si è reso irreperibile, ma è stato prontamente rintracciato da una pattuglia dei carabinieri di Mogliano Veneto e deferito all'autorità giudiziaria. A Ponzano, l'arma usata per minacciare una coppia di coniugi 50 anni è stata una pistola brandita da un 64enne. I militari hanno perquisito la casa dell'uomo trovandovi una pistola soft air, una salve, una d'aria compressa prive di tappo rosso, oltre ad un fucile da pesca subacquea. Le armi, tutte, sono state sequestrate. Torniamo a parlare di atti vandalici. La polizia locale ha iniziato una serie di controlli a tappeto nei vari quartieri di Treviso. Ho fatto il barbecue qualche giorno fa ed ho i coltelli in macchina per questo motivo. È la giustificazione data da un automobilista rumeno di 35 anni alla polizia locale quando è stato fermato. Ovviamente per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi da taglio. I coltelli sono stati sequestrati. A distanza di un mese dagli atti vandalici messi a segno in un quartiere di Treviso dove una persona aveva rubato all'interno di alcune auto sono stati intensificati i controlli da parte della polizia locale. Ancora operazioni ad alto impatto nei quartieri. Oggi tocca al quartiere molto popoloso di Sant'Antonino dove sappiamo che recentemente ci sono stati anche degli atti vandalici. Fortunatamente il responsabile è stato individuato ed è ferito all'autorità giudiziaria. Fondamentale è aumentare la percezione di sicurezza fra i cittadini ha spiegato Andrea Gallo, il comandante della polizia locale di Treviso. Controlli a 360 gradi per l'intera giornata sia stradali che commerciali. Una cinquantina le macchine fermate e controllate. Non solo ma un bar in via del Mozzato sempre nel quartiere di Sant'Antonino è stato sanzionato per alcune violazioni di natura commerciale e sanitaria. Il titolare dovrà pagare per questo una multa di 1.600 euro. Controlli che continueranno nelle prossime settimane soprattutto nelle zone considerate maggiormente a rischio di Treviso. Castelfranco con la rissa in stazione ma anche le continue aggressioni agli autisti e controllori della MOM tanto che l'azienda di trasporti si è attrezzata con delle giurate alle autostazioni. Anche i carabinieri hanno potenziato i controlli anche all'esterno delle scuole. Questa attività di prevenzione rappresenta per il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso sicuramente una priorità. Sono controlli finalizzati proprio a garantire l'ordinato svolgimento di quelle che sono le attività in questi luoghi, appunto, le stazioni dell'autocorriere le stazioni dei treni, luoghi di aggregazione che appunto per consentire agli utenti di questi servizi di poterlo fare in maniera assolutamente tranquilla. Ecco, comandante, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi un fenomeno che un po' preoccupa e che è cresciuto negli ultimi tempi queste risse ma anche queste aggressioni da parte proprio di giovanissimi, anche di minorenni. La nostra attenzione è massima verso i giovani individuando quelle che possono essere magari anche le linee più delicate ma anche accostandoci insomma a quelli che sono i luoghi normalmente devoluti a quella che è l'attività di questi ragazzi quindi le scuole dove anche qui abbiamo intensificato la nostra presenza, abbiamo intensificato il dialogo con genitori, con i ragazzi, con gli insegnanti credo che si debba partire da lì. Giovanissimi che rischiano davvero molto, anche penalmente. Rispetto ad atti di bullismo si possono sullo sfondo generare veramente dei reati di una certa gravità, gli atti persecutori le lesioni, le minacce sono reati che commessi da minori possono poi incidere sulla vita di questi ragazzi che sembra banale dirlo ma insomma rappresentano un futuro della nostra società. Poi ci sono quattro giovanissimi sono stati denunciati dalla polizia per danneggiamento aggravato con loro, avevano delle bombolette spray stavano deturpando una pensilina dell'autobus alla domanda della polizia hanno risposto stiamo facendo arte. Erano circa le 22 quando un anziano cittadino ha assistito a un atto di vandalismo nei pressi della centralina della PS e della pensilina dell'autobus in Viale 4 novembre a Treviso la pronta chiamata alle forze dell'ordine ha portato alla denuncia di quattro writers due ragazze e due ragazzi per imbrattamento aggravato perché stavano deturpando con la vernice delle strutture pubbliche i quattro giovani ventenni due della provincia di Treviso uno della provincia di Venezia e uno del bellunese ancora sul posto non sono stati trovati in flagranza di reato ma con le mani macchiate di vernice perquisendo i loro zaini gli agenti hanno rinvenuto delle bombolette spray stupiti di essere fermati da una pattuglia della polizia i ragazzi si sono difesi dicendo agli agenti perché ci fermate la nostra è arte non stiamo facendo niente di male opinione che non tutti condividono tali forme di espressione devono trovare spazio in contesti appropriati e autorizzati ci dicono non c'è il posto giusto quello si fa sui muri dove chi che permette a pensarla così sono anche i più giovani dipende dove lo fanno e cosa scrivono non lo so dipende cioè per una cosa così probabilmente no però ti dico non lo so magari una fabbrica abbandonata uno spazio vuoto ci sta Treviso ha offerto diverse opportunità per gli artisti emergenti di esprimere la propria creatività in modo legale e rispettoso dell'ambiente urbano è ad esempio la Restera dove molti writers legati a progetti di street art hanno dipinto svariati murales qui gli artisti hanno condiviso le proprie opere con la comunità senza infrangere le leggi o arrecare danni torniamo a parlare di parcheggio a piani dove è tornato il caos alcuni richiedenti asilo in attesa di essere convocati dalla questura si sono spostati dai sotterrani del parcheggio e stanno dormendo proprio davanti alla questura molti di loro hanno la febbre uno ha il catetere un'emergenza mai risolta i volontari della comunità di Sant'Egidio ad alcuni di loro avevano offerto un posto letto che è stato rifiutato da lì non vogliono andarsene ascoltiamo le loro storie la polizia ci ha mandato via via ha detto via dal parcheggio nessuno ci ha dato protezione fa freddo nel parcheggio si fa troppo freddo come facciamo a stare sul pavimento come facciamo ho un problema agli occhi questa è la mia cicatrice voglio un dottore per favore aiutatemi dicono di avere la febbre di essersi ammalati dopo diversi mesi nel parcheggio della Piani dove ora fa troppo freddo per dormire per questo da tre giorni si sono spostati qui il parcheggio è troppo freddo ci sono troppi problemi e poi stiamo tutti assieme tanti si stanno ammalando ci sono troppi problemi un'emergenza a Piani mai risolta nonostante il comune di Treviso abbia sempre provveduto a sue spese a bonificare l'aria e l'intervento della comunità di Sant'Egidio ecco i giacidi i calzetti lasciati asciugare le immondizie in questo gruppetto che ha scelto di salire in superficie c'è anche un 36enne del Pakistan appena uscito dall'ospedale ha il catetere non lo abbiamo incrociato solo per pochi minuti qui non abbiamo né un letto né qualcosa da mangiare no sono i richiedenti asilo che restano nel limbo in attesa di accoglienza della domanda di protezione internazionale quest'uomo ha l'appuntamento fissato solo a maggio nel limbo perché non sono di stretta competenza di nessuno la questura ne gestisce le pratiche la prefettura l'alloggio ma solo una volta ottenuto lo status di rifugiato il comune per bocca dell'assessore Gloria Tessarolo chiarisce nessuno nega loro un pasto manderemo un controllo ma questo caso fa capo a Roma il comune non ha ulteriori strumenti perché qui non siamo nell'ambito dell'accoglienza della persenza fissa di mora qui siamo nell'ambito del sistema di accoglienza dell'immigrazione e in questo caso dell'immigrazione irregolare stiamo in realtà con gli enti locali anche in accordo con la prefettura perché i tavoli ci sono stati cercando di tamponare in mesi particolarmente critici e difficili che sono quelli invernali la situazione però come dire andando anche oltre come territorio a quella che sarebbe la stretta competenza sono certa che la rete di volontariato che abbiamo costruito sul territorio sta lavorando bene continua Tessarolo con Anci c'è una richiesta in regione per iniziare a ragionare sui numeri io ovviamente segnalerò nuovamente segnalerò a Sant'Egidio e alla polizia locale allora l'assessore Tessarolo chiarisce sono 34 i posti attivati dal comune però per l'emergenza freddo all'interno dell'asilo notturno di via Pasubio tutti occupati in questo momento due fermi ma riservati per persone ospedalizzate dunque non c'è posto lì 18 quelli attivati da Caritas più 12 in seminario 71 i posti attivi non ci risultano dice Tessarolo liste d'attesa si tratta di posti di emergenza per persone senza fissa dimora e poi c'è la notizia di Sant'Egidio con i 15 posti attivati e alcuni rifiuti ricevuti di fronte alle proposte ancora con la cronaca siamo al controllo dei NAS in un bar e in un ristorante a Preganziol alimenti mal conservati cibi non correttamente confezionati e sporcizi è quanto hanno trovato i carabinieri del NAS di Treviso in queste due attività nel quadro di una specifica attività ispettiva nel settore della ristorazione sulla scorta della segnalazione dei militari dell'arma il servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss ha emesso nei confronti delle due attività un'ordinanza di sospensione di attività valida fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie per entrambe sanzioni per alcune migliaia di euro siamo a Treviso è la terza città più inquinata il tema è quello dello smog nella giornata di Allerta Rossa arrivano i dati del report annuale di Legambiente che vedono appunto Treviso al terzo posto vediamo una cappa di aria irrespirabile che ammorba la città ce ne accorgiamo semplicemente facendo una passeggiata o passando uno straccio sul davanzale di casa la conferma arriva dai dati pubblicati nel report malaria di Legambiente Treviso con 63 giorni di sforamenti di PM10 nel 2023 è la terza città più inquinata d'Italia peggio fanno solo Frosinone e Torino ed è tutta la pianura veneta a soffocare con valori preoccupanti anche di PM2,5 e biossido di azoto i dati ci dicono che il processo di riduzione delle concentrazioni è inesistente o comunque troppo lento spiega Andrea Minutolo responsabile scientifico di Legambiente per salvaguardare la salute delle persone serve fare di più prevenire proteggere curare le parole chiave di Legambiente Treviso i cittadini possono intanto proteggersi con le mascherine aprendo le finestre nelle ore con meno concentrazioni di inquinanti in genere le più calde della giornata riducendo l'uso dell'auto ed evitando di stare all'aria aperta nei giorni peggiori per quanto riguarda gli enti locali prevenire significa secondo Legambiente incentivare l'uso del trasporto pubblico implementare ZTL zone 30 promuovere l'home working supportare l'installazione di tecnologie a basse emissioni per il riscaldamento eseguire controlli sugli allevamenti intensivi nelle campagne fondamentale poi intervenire sul consumo del suolo non solo riducendo la cementificazione ma rimuovendo l'esistente allarga le braccia l'assessore all'ambiente manera serve un piano nazionale ed europeo per tutto il bacino padano ha fatto benissimo il sindaco a richiedere come presidente di Anci un incontro con il ministro per capire le disponibilità finanziarie per fare un cambio caldaie repentino noi ci stiamo lavorando da anni abbiamo messo tantissimi soldi stiamo piantando tanti alberi e sul consumo del suolo così l'assessore in relazione alle 5 nuove aree commerciali che verranno realizzate in strada ovest teniamo conto che noi siamo l'aggiunta che è andata con lo scorso mandato anche con questo in riduzione di consumo del territorio certo queste aree hanno dei diritti acquisiti non credo che in Italia esistisse questo proletario quindi anche se decidono di fare qualcosa è chiaro che hanno comprato il terreno con delle caratteristiche e noi pur dando tutte le limitazioni che la legge ci consente non possiamo opporci attenzione nuovo maxitamponamento un incidente lungo la A4 la zona del tratto maledetto tra San Stino e Cessalto ci sono 4 automobili che starebbero bloccando la strada il traffico è in tilt e si sta muovendo la polstrada vedremo aggiornamenti più avanti andiamo ora in pubblicità e poi continuiamo con tutte le notizie dalla marca TG Treviso buonasera ben ritrovati ripartiamo dalla sanità alle polemiche legate allo spostamento ad Oderzo di uno dei due medici di base di Cessalto risponde il direttore generale dell'Ulss2 Francesco Benazzi sentiamo non c'è interruzione di servizio perché noi cittadini comunque diamo una risposta che vuol dire diamo ovviamente il medico fuori ambito e questo non dipende da noi ricordo il sindaco che è un problema nazionale allora lui si deve muovere a livello politico nazionale il direttore dell'Ulss2 risponde per le rime al sindaco di Cessalto Emanuele Crosato che nei giorni scorsi aveva espresso preoccupazione per lo spostamento di uno dei due medici di base del paese dal 18 febbraio il dottor Alessandro Favero prenderà servizio a Oderzo come da lui richiesto il medico si è detto disponibile ad accogliere due giorni a settimana i pazienti di Cessalto ma farlo in un ambulatorio fuori dall'ambito territoriale di assegnazione chiarisce Benazzi non è possibile perché l'articolo 31,9 dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale il 28 aprile 2022 dice al medico e lo dico scandendolo al quale sia stato definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo è fatto divieto di esercitare attività convenzionali ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dell'ambito territoriale nel cui l'elenco è scritto quindi Oderzo chiaramente è fuori dall'ambito territoriale di Cessalto noi abbiamo chiesto più volte al comitato aziendale i medici e i famigli di dare un'autorizzazione provvisoria in casi simili ci è sempre stata negata certo continua il direttore dell'ULS spiace creare dei disagi ma non dipende da noi noi come lui abbiamo a cuore i cittadini l'azienda ULS e la ragione ha a cuore i cittadini il problema è che ci sono delle normative che vanno rispettate nel frattempo l'ULS si è attivata per il futuro la prossima pubblicazione sarà a maggio e le assegnazioni saranno tra giugno e luglio faremo di tutto cercheremo di convincere dei medici perché possono andare a Cessalto ci spostiamo a Roma con le immagini sono state due ore di dialogo a 360 gradi in un clima di grande simpatia e fraternità il commento del Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto Francesco Moraglia al termine dell'udienza con Papa Francesco avvenuta questa mattina al Palazzo Apostolico nell'ambito della visita a Limina dei Vescovi del Nordeste Italiano nel di Castero per l'evagilizzazione la Segreteria Generale e la Messa nella Basilica San Paolo fuori le mura queste sono gli appuntamenti per la giornata di domani l'ultimo appuntamento è fissato per la mattina di sabato 10 febbraio quando è previsto l'incontro con la Segreteria di Stato ed anche Monsignor Michele Tommasi era presente alla visita a Limina dei Vescovi del Triveneto da Papa Francesco sentiamo quali sono state le sue impressioni questa visita a Limina si sta dimostrando una preziosa occasione di incontro di dialogo incontro con i dicasteri romani che si presentano e che sono anche molto disposti ad ascoltare le nostre esperienze le nostre richieste ciò che ci sta veramente a cuore e poi anche di scambio di interazione e di conoscenza sempre più approfondita tra noi Vescovi del Triveneto ogni presentazione ogni incontro è l'occasione di guardare un aspetto della vita delle nostre comunità potendo scambiare tra di noi pensieri opinioni proposte e anche per ascoltarci vicendevolmente è davvero un bel momento di chiesa Siamo al Carnevale la sfilata dei carri allegorici a Treviso il pomeriggio di Marte di Grasso in vista appunto della sfilata la polizia locale come sempre ha disposto una serie di chiusure e di vieti di vieto di sosta dalle 10 di martedì alle 12 di mercoledì in Viale Burchiellati Fra Giocondo e Viale Dalviano il divieto di sosta terminerà invece martedì alle 18 in Viale Cairoli e in diverse strade tra Borgo Cavalli Piazza del Grano Borgo Cavur Città Giardino San Nicolò attenzione dunque ai cartelli dalle 7 alle 20 niente auto anche in Piazza Duomo e in Via Castello d'Amore zona Forboario dove si raduneranno i carri quanto alla circolazione stop dalle 13 fino a cessate esigenze lungo il percorso della sfilata dunque Borgo Cavalli Viale Burchiellati Borgo Cavur Duomo Viale Battisti le tappe principali l'aria apertura delle strade avverrà gradualmente restiamo in tema di Carnevale oggi è giovedì Grasso non si rinuncia alle tradizionali frittelle e aumenti di un euro al chilo per far fronte ai rincari frittella? si no? le compra? si assolutamente quali preferisce? o vado di crema classica oppure andiamo sulle mele sull'uvetta festeggia buone? il carnevale come la sorella quaresima è festa mobile dipende da quando cade la Pasqua ma ha delle certezze il mercoledì delle ceneri così come il giovedì grasso che cade oggi all'insaputa di molti ha comprato una frittella oggi che è giovedì grasso? no sono sincero no ma se l'era dimenticato che è giovedì grasso si sono sincero l'ho dimenticato la frittella con l'uvetta crema zabaione cioccolato o nelle varianti più d'élite pistacchio e chantilly resta un must per panifici e pasticcerie è venduta quest'anno con prezzi che vanno dai 36 ai 39 euro al chilo c'è solo un euro di differenza dell'anno scorso stiamo cercando di drenare i prezzi di mantenere noi diciamo sostenere perché sappiamo che comunque la clientela è in difficoltà e cerchiamo di dare una mano ecco abbiamo cercato di aumentare la minima la minima cosa che ci che è necessaria ecco non di più non ne abbiamo guadagnato di sicuro solo per mantenere le spese aumentati burro e zucchero che sono raddoppiati e poi le uova le farine sono scese ma è materia prima che incide di meno a parlare al panificio Bosco e al titolare Tiziano Bosco a capo dei panificatori di Ascom Treviso i consumatori vi stanno sostenendo stanno acquistando come si stanno comportando in questo carnevale il consumatore sì ci sta acquistando ma comincia adesso a dare via diciamo alle danze a approfittare un po' del carnevale prima è stata un po' più dura visto gli anni che si era perso un po' con tutte le cose che sono passate che abbiamo vissuto quest'anno c'è un po' un ritorno e ci fa piacere insomma la gente è più serena siamo allo sport rugby domenica a Monigo scenderà in campo la franchigia femminile contro le Iberians Valencia scenderanno in campo domenica alle 14 allo stadio di Monigo le ragazze della franchigia femminile del Benetton Rugby e Zebre Parma per l'esordio in casa contro le Iberians Valencia il progetto tecnico federale dedicato al gioco femminile di alta prestazione si è ampliato con la creazione delle due squadre che prendono parte ad una progettualità congiunta con la federazione spagnola ed il sostegno della federazione internazionale World Rugby abbiamo l'obiettivo sicuramente di sviluppare di dare più opportunità a più ragazze di alzare la loro livello di competizione dando l'opportunità appunto di competere a livello internazionale quindi è un po' un modo per far sì che più ragazze possano transitare verso l'alto livello il rugby giocato dalle donne sta affrontando una crescita molto importante negli ultimi anni e si stanno facendo sforzi per aumentarne visibilità partecipazione e risultati sforzi che si arricchiscono di questa nuova opportunità l'importanza è ovviamente sportiva dare alle ragazze un'opportunità di sviluppo a livello di competenze a livelli più alti come può essere una competizione internazionale e un'importanza culturale perché diamo la possibilità di una diversa visibilità di una diversa esposizione ai ragazzi per poter far percepire che lo sport infermigile in generale e sicuramente il rugby ha bisogno di una grossa attenzione perché ci sono dei grandissimi valori a livello sportivo ma non solo sportivo ma delle grandissime opportunità anche per chi vuole investire Siamo nelle notizie di Belluno e provincia Partiamo dalla fronte Olimpia di Milano Cortina 2026 riemerge la questione del villaggio olimpico temporaneamente passata in secondo piano dopo le vicissitudine legate alla pista da Boba Borca di Cadore rimane aperta la disponibilità ad un dialogo con gli organizzatori C'è davvero molto troppo ancora in alto mare per la parte veneta delle Olimpiadi Invernali 2026 nemmeno il tempo di dare il via al rifacimento dell'Eugenio Monti in modo di non fare perdere a Cortina gare e medaglie di discipline quali Bob Slittino e Skeleton che è partita l'indagine della Procura della Repubblica di Belluno per verificare se siano stati violati i vincoli paesaggistici e poi la questione del villaggio olimpico per il quale si era proposto il villaggio Eni di Borca In merito alla questione del villaggio olimpico io non ho più avuto alcuna notizia avevo fatto un'opportuna a mio modo di vedere opportuna segnalazione sulla opportunità di rivitalizzare la colonia Eni di Borca che è sufficientemente capiente grande che è un'opportuna che aveva costruito lo Stato con Mattei quindi non è che andavamo fuori tema pubblico Sarà invece a Fiammes oppure se la pista da Bob non dovesse entrare in funzione per gli atleti basteranno gli alberghi nebbia fitta sul tema e chi aveva offerto la spettacolare struttura del suo comune con la disponibilità totale dell'attuale proprietà ormai ha alzato bandiera bianca se qualcuno mi interloquisce con me sono a disposizione però devono venire loro a questo punto a chiedere io come comune ho solo in mano lo strumento urbanistico il resto è una proprietà privata per cui l'interlocuzione prima dovrebbe essere fatta con il proprietà certo ma ripeto lei ci spera? no a questo punto non ci spero più però rimango a disposizione la promozione olimpica sbarca al festival di Sanremo ieri sera sul palco dell'Ariston hanno fatto il loro ingresso trionfale i due ermellini Tina e Milo le due mascotte di Milano Cortina 2026 e rappresentare rispettivamente gli eventi olimpico e paralimpico i simpatici pupazzi sono il frutto di un'iniziativa che ha coinvolto più di 600 classi di studenti di scuole primarie e secondarie di tutto lo stivale per il design e la realizzazione delle mascotte dopo le presentazioni davanti al pubblico di tutta Italia dopo aver incontrato le studentesse gli studenti di Sanremo Tina e Milo partiranno per il loro primo viaggio faranno tappa a Roma e poi saranno protagonisti di un tour sui territori di Milano Cortina 2026 che toccherà Cortina D'Ampezzo Bruni Quanter Selva Bolzano Piancavallo Valdifiemme Bormio Livigno e Milano Catastrofe di durata di durata dei lavori di una comunità già alle prese con le problematiche legate allo spopolamento e alla mancanza di servizi ed infrastrutture per i sindacati è prioritario che vengano fornite delle garanzie sulla possibilità di transito di studenti e lavoratori e che si trovino soluzioni alternative per la mobilità durante l'interdizione della circolazione se non si interviene il rischio è di incorrere in danni economici incalcolabili chiosano i sindacati e a Belluno l'azienda sanitaria si prepara alla settimana del cuore due incontri per educare la popolazione alle malattie cardiovascolari nella sede di Ulss Uno Dolomiti si è parlato anche di bilanci di attività di cardiologie di Belluno e di Feltre due ospedali una sola missione comune presentati nella sede dell'Ulss Uno Dolomiti i bilanci positivi di attività delle cardiologie di Belluno e Feltre che per il 2023 riportano un generale aumento delle prestazioni erogate rispetto all'anno precedente e questo nonostante una leggera carenza di medici specializzati come del resto accade in tutto il panorama sanitario nazionale 2.000 ai ricoveri più 3% rispetto al 2022 di cui in un caso su 6 di persone provenienti da fuori provincia quasi 37.000 prestazioni per un aumento di 5 punti percentuali e più di 1.000 interventi a segnare un più 11% una grande squadra che quindi garantisce un numero di prestazioni che nel 2023 è aumentato rispetto appunto al 2022 e quindi ha dato le risposte che la comunità bellunese necessitava cardiologia di Belluno e Feltre che pur operando sinergicamente possono contare su specializzazioni differenti a Feltre con l'elettrofisiologia a Belluno con l'emodinamica l'attività l'attività di emodinamica e cardiologia interventistica si caratterizza esami diagnostici di coronarografia che permettono di fare diagnosi di malattia coronarica la terosclerosi coronarica e gli interventi di angioplastica per cutanea questi interventi permettono di disostruire le coronarie ostruite dalla patologia terosclerotica Bellunesi a Feltre trovano un servizio di cardiologia un reparto di cardiologia che è pronto e disponibile a trattare tutti i pazienti innanzitutto secondo la nostra specificità è quella dell'elettrofisiologia cioè quella delle cure delle retomie l'attività che viene fatta su pazienti che sono delle persone che non hanno soltanto il problema ritmico e quindi viene fatta in collaborazione con la cardiologia di Belluno perché gli aspetti di collaborazione tra le due cardiologie sono fondamentali di tematiche cardiovascolari e della prevenzione delle patologie connesse si parlerà in due appuntamenti aperti alla popolazione fissati per il 14 febbraio dalle 14.45 nella sala convegni del San Martino di Belluno e il 16 febbraio dalle 15.30 in quella del Santa Maria del Prato di Feltre era l'ultimo servizio di questa edizione siamo alle previsioni del tempo grazie per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata con Antenna 3 arrivederci termoidraulica Susin i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento se compri la caldaia ti regalo il condizionatore ben trovati al meteo dopo oltre due settimane di assoluto dominio anticiclonico cambia la circolazione giunge infatti una perturbazione e il tempo peggiora vediamo insieme in dettaglio sul Veneto la grafica di venerdì 9 febbraio evidenzia una diffusa instabilità cielo nuvoloso con precipitazioni ovunque localmente anche intense limite della neve oltre i 1500 1700 metri temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi massime tra 8 e 12 all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui piogge sparse in genere deboli o moderate su pianura e costa anche abbondanti sulla zona montana nevicate solo ad alta quota dunque oltre i 1600 1800 metri circa temperature minime tra 7 e 9 gradi massime sui 10 11 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige anche qui sarà piuttosto nuvoloso con rovesci pressoché dappertutto temperature minime tra 5 e 7 gradi massime sui 10 all'incirca dal meteo è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia termoidraulica susin i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento se compri la caldaia ti regalo il condizionatore codici di riscaldamento Grazie a tutti